Un'associazione impegnata nell'organizzazione di eventi e soprattutto nel contrasto al pregiudizio legato alla malattia mentale. È Venti di Speranza che è organizzato nel Centro di Urno di Riabilitazione Psicosociale e Lavori in Corso, gestito dalla Cooperativa Sociale ERA del gruppo di imprese sociali Igesco, un progetto che per la prima volta a Napoli vede la partecipazione alle sue attività di promozione e di organizzazione di eventi di alcuni pazienti della struttura in qualità di soci. Alla conferenza di presentazione è intervenuto Giacomo Smarrazzo, presidente della Cooperativa ERA, che ha spiegato. Oggi noi presentiamo la nascita di un'associazione fatta dalle persone che normalmente e quotidianamente vengono a usufruire i servizi del centro qui della ASL, un'associazione che punta a costruire eventi, a realizzare iniziative, a mettere a sistema un lavoro sociale e anche politico di costruzione di nuove reti e anche di portatori di un messaggio di cambiamento e di crescita culturale della ricetta. Presente è anche la presidente dell'associazione Venti di Speranza, Daniela Metitiero. Rispondendo proprio a quelle che sono le attività dell'associazione, quelli che prima erano pazienti, quelli che sono utenti del centro, possono esprimere la loro cittadinanza attiva, possono far parte dei nostri progetti, possono realizzarli insieme a noi e questo ci rende molto, ci dà una grande gioia. Per l'occasione è stata presentata anche la seconda edizione di Tammurriata a Bionda, organizzata da Carlo Fajello, un'iniziativa di solidarietà che vede coinvolti gli utenti della salute mentale nella produzione della birra artigianale.